Ciao Roberta, ti porto di nuovo a spasso con me mentre guardo una farfalla gialla sopra gli alberi e sono qui in quel parco che ieri non so se riuscivi a sentire bene la mia voce ma ero su una strada abbastanza principale e guardavo questo parco che adesso devo attraversare per arrivare alla via della Regina si chiama Queen Street e poi da lì scendo ancora più al sud e arrivo alla via del re che si chiama King Street e niente vediamo cosa troviamo oggi non ho idea e ti porto ancora a spasso con me lì ci sono due ragazzi seduti con calma e poi lì sotto non si vede ma c'è un parco per i cani che possono girare liberamente e lì una ragazza con i capelli rossi che sta in calma e adesso ti porto a spasso ok magari sto un po' zitta e lasciamo che parlano le cose che vedo la prima cosa che vedo e non mi sono mai avvicinata a quest'altra canoa ma vediamo cosa troviamo ti saluto e guarda con calma quando hai tempo ok ciao ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.